Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Zeta, che mi chiede di parlare del film del 1987 di Fred Decker, Scuola di Mostri. Foro dei mostri è un caltissimo della mia adolescenza, una commedia horror di quelle che non se ne fanno più, anzi in realtà cercano di farle, copiando Stranger Things e tirando fuori di tutto, ma la voglia, appunto, ottantina in un certo senso di questo film è assolutamente unica nel suo non prendersi mai sul serio eppure essere maledettamente ben girato da un grandissimo Fred Decker, che ricordiamo è quello di Dimensione Terrore, mica Cazzi, che poi fece la botta con Robocop 3, non ha praticamente più lavorato, peccato perché questo è veramente un regista contro Cazzi, che qui naturalmente scrive la sua sceneggiatura insieme al grandissimo Shane Black, che come al solito riesce a farci capire un'altra volta che riesce a scrivere commedie d'azione e horrorifiche sempre alla stragrande in questa storia, insomma, che parte appunto nell'Ottocento, un Van Helsing che riesce a chiudere tutti i mostri e poi riparte appunto nel ventesimo secolo, negli anni e metà anni Ottanta, siamo in questo paesino, ci sono un gruppo di ragazzi, Sean, Patrick, Rotolo, Rodi e Eugène, che sono veramente un appassionato di horror, che guardano sempre i film horror la notte praticamente, e cosa succede per farla breve? In questo paesino incomincia a risvegliarsi Dracula, che inizia a risvegliare tutti gli altri mostri per conquistare il mondo e via dicendo, i nostri ragazzini sono gli unici accretici perché la polizia nessuno li c'ha e quindi cercano di fare un piano con la moglie, con la sorella, forse, Vergine, uno di loro per cercare di spedire tutti all'inferno tramite un metallione appunto e un Van Helsing credi vivo. In tutto questo naturalmente si staglia alla stragrande energia di Fred Decker che costruisce l'inizio appunto con quella parte goticissima, con quei movimenti di macchina che ricordano un certo tipo di ember per poi in realtà buttarsi in un paio di scene anche violente, non è a caso appunto l'uscitazione a fulci anche del poster di Zombie 2, per un film che vola altissimo. A livello di fotografia, ripeto, il film è fatto benissimo nonostante siamo alle fronte della Serie B, con Brad Formay che fa un lavoro veramente eccellente, così come il montaggio di James Mitchell o le musiche di Broughton, è un film che funziona alla grande, uno di quei classici film diciamo a Lagunis che qui c'è i mostri però e che però non lascia da parte assolutamente la violenza, la gente muore, è cattivissimo e riesce anche a essere costruito bene con questi personaggi ragazzini uno più bravo dell'altro e con tutti quelli che fanno i mostri veramente convincenti. Per una piccola opera che vinse il Festival di Bruxelles e che in realtà è cresciuta col tempo, è diventata un caldo assoluto per tutti noi amanti del cinema e che io lo vidi al cinema a 14-15 anni ed ero già esaltato, ci si divertì tantissimo. Primo per questa ricostruzione appunto dei mostri universali non solo e che sono rinascono un'altra volta in questo tipo di cinema che però diventa post-moderna nella regia, nella sceneggiatura che è folle, un'ironia completamente pazza che si mescola all'orrore, che si mescola in un certo senso a un classicismo che veramente fa di Shane Black una delle pene più interessanti già nell'87 e Fred Decker ripeto è una di quelle grandi persone dietro la macchina appreso che non hanno mai ricevuto quello che dovevano ricevere e che hanno sbagliato un film appunto scritto da quel coso di Frank Miller che l'ha completamente sballato e appunto si è rovinato probabilmente la cagliera con Robocop 3 ma questo Fred Decker comunque qui era un Fred Decker che aveva girato questo dittico di film di serie B fatti con tre lire dell'orrore che appunto fra il bellissimo dimensione terrore e questo altissimo scuola di mostri danno veramente le scarpe a quasi tutti i registi di questo genere di adesso proprio perché il film è ritmato benissimo, è girato alla grande, ci sono dei ottimi piani sequenza, ci sono dei movimenti altissimi e poi ripeto la fotografia e tutto il resto è talmente curato che il film scuola di mostri ancora oggi non è invecchiato di un giorno, il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio il giro per l'Italia, le auguri di scuola di mostri Fred Decker 1987 se lo trovate accattato perché siete così tanto inflazionati da questi anni 80 fasulli che fanno adesso che quando vedete i veri anni 80 folli ecco ne rimarrete veramente inflesciati.